In casa di cura Piacenza è possibile sottoporsi a visite di chirurgia generale, i sintomi più frequenti per cui un paziente si sottopone a visite di chirurgia generale sono la presenza di difetti della parete addominale ed inguinale, ovvero ernie e laparocelli, laparocelli sono dei difetti della parete post intervento, dopo la chirurgia di solito, inoltre il paziente si rivolge al chirurgio generale per patologie quali l'alitiasi della colecisti, ovvero i carcoli nella colecisti, oppure per l'asportazione di lesioni cutanee quali lipomi, cisti selvace o oligocriptosi, la condizione definita di unghia incarnita. Grazie a tutti